E' stato celebrato ieri il 199esimo annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Contrada Balate a Gela. Una cerimonia sobria ed elegante che ha registrato la presenza delle massime autorità locali, civili e militari. 199 anni di storia, di valori, di orgoglio, di onore, di servizio al servizio della nazione. Ed è straordinario, straordinario perché gli uomini continuano ad avere passione, continuano ad avere motivazione, continuano a trasformarsi perché seguono l'evoluzione che la società italiana nel corso del tempo ha avuto fino ad oggi. Siamo molto contenti, siamo molto felici di dedicare questa giornata a tutti i poliziotti penitenziari, alle famiglie che condividono onori, gioie, dolori, tanti dolori. Un ricordo va ai pensionati e ai caduti della Polizia Penitenziaria nell'adempimento del dovere. Oggi siamo qua ad esaltare il blu delle nostre divise. Lei che cosa si augura per questo corpo nel giorno del compleanno, il 199esimo? Lunga vita. Lunga vita al servizio del Paese, lunga vita nella contribuzione alla sicurezza delle città in cui le istituzioni penitenziarie insistono e lunga vita anche per quel concetto importante di condivisione. È una tradizione storica molto importante al servizio delle strutture, in particolare della Casa Circondariale di Gela, che è molto addato a questo territorio. Molto addato e molto conta di dare. È un prezioso contributo. In realtà tutto si dà e molto si riceve. La partecipazione anche alla festa è significativa. Ci sentiamo parte come grande condominio della città. Vorremmo essere anche un condominio produttivo. Sindaco, la Casa Circondariale di Gela ormai attiva da diversi anni una struttura di cui la città aveva veramente molto bisogno. I risultati sono arrivati, sono davvero straordinari. Questa è stata considerata una delle strutture più virtuose d'Italia. Avere questa struttura nel nostro territorio, dove fra le altre cose ospita persone anche del territorio, consente di poter avere una maggiore vicinanza agli affetti, mentre le persone scontano la pena nei confronti della collettività. Quindi è una struttura importante, una struttura di rieducazione importante, una struttura che devo dire si è fatta valere e sono sicuro che si continuerà a fare valere a livello sia regionale ma anche a livello nazionale.